Pronti per un nuovo appuntamento milionario? È il momento dell'estrazione di Eurojackpot! La prima urna elettronica è attiva. Le 50 sfere numerate vengono mescolate e ora sono pronte a essere estratte. L'attesa è finita. Il primo numero di questa sera viene estratto ora. Il primo numero è... 23. Ecco il secondo numero di questa sera. Il secondo estratto è il numero... 38. Siamo ora al terzo estratto. Ed è il numero... 6. Quarto numero di questa estrazione. Eccolo! E' il numero... 42. Quinta sfera. Pronti a scoprirla? Con i due euro numeri potrebbe assegnare vincite milionari questa sera. Il quinto numero estratto è... 45. Passiamo ora all'estrazione dei due euro numeri. Il jackpot milionario potrebbe essere assegnato tra poco. Abbiamo il primo euro numero della nuova combinazione vincente di euro jackpot. È il numero... 12. Ultima sfera estratta per questa sera. Siete pronti alla possibile assegnazione del jackpot? Ecco il secondo euronumero. 9. È il momento di scoprire la combinazione vincente. 6. 23. 38. 42. 45. I due euronumeri sono... 9 e... 12. Controlliamo i risultati di questa estrazione e le quote di tutte le categorie di vincita. Questa sera non è stato realizzato il 5 più 2, ma sono state numerosissime le vincite sia in Italia che in Europa. Molti giocatori sono stati premiati con vincite straordinarie. Continuate a seguire i nostri canali per sapere dove sono state realizzate. La caccia al jackpot milionario prosegue in martedì prossimo. Il jackpot in palio sarà pari a... 105 milioni di euro. Perciò si spettano il punto di vista dell'ignor, è stato un gioco per gli spettatori. Il jackpot in palio sarà pari a tutti i nostri canali. Perciò si spettano il paio. Questa verà sempre che sono state necessità... Perciò si spettano il&icorde. Perciò si spettano il mondo.